L'Aquila Rugby Club ha un nuovo sponsor che dalla prossima gara sarà sulla maglia nero-verde. Si tratta dell'azienda Aquilaneo Spa, dell'imprenditore Berardino del Tosto, che ha sottolineato in conferenza stampa come questa per loro sia la prima sponsorizzazione di carattere sportivo. Il motivo principale è stato perché l'amicizia che mi lega a Mauro da tanti anni, anche se io sono sempre stato interessato ad altri tipi di attività, più alla parte musicale che alla parte sportiva della vita sociale di questa città. Infatti sono sempre stato appassionato di locali, di musica. È la prima volta perché ho ritenuto di intervenire pure in questo tipo di attività per il sociale, per la città e per un ambiente di creazione di nuovi talenti, nuovi giovani che intervengono nella vita sociale. Quindi mi è piaciuto collaborare con Mauro in questo tipo di nuova attività. Una squadra giovane, appunto, che per adesso ancora non dà grandi risultati, ma sicuramente grandi soddisfazioni anche alla città. Come si può fare per coinvolgere questa città, per sostenere questa giovane compagine? La città, generalmente l'Aquila, è sempre un po' freddina. Ogni iniziativa nuova che si propone è sempre un attimo un po' riflessiva. Ci vuole un po' di tempo, ma alla fine, esistendo, penso che Mauro riuscirà a coinvolgere l'Aquila pure in questa avventura di questa squadra nuova. Diversi gli argomenti trattati nell'ultima conferenza dell'anno su tutti il completamento dell'impianto sportivo di Piazza d'Armi, che ad oggi ancora non ha spogliatoio o impianto di illuminazione. Non è una critica, ha sottolineato il presidente Mauro Zafiri, ma di certo vogliamo stimolare il comune affinché proveda. La squadra neroverde, infatti, ad oggi è costretta, lo ricordiamo, a prendere in affitto gli spogliatoi di atletica e a provvedere da sé con gruppi elettrogeni per l'illuminazione, in un campo dove ogni giorno si allenano più di 200 bimbi oltre alla prima squadra. Il presidente ha poi ricordato il problema cronico dei fondi. Non arrivano fondi, chi dovrebbe elargirli in latita? E da poco abbiamo presentato, ha detto, anche un progetto alla Fondazione Carispac, senza aver avuto risposta. Dal punto di vista tecnico il momento non è né facile né felice, ma si spera di poter riuscire a valorizzare i giovani e che in prospettiva si possa far bene.